Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi quando una raffica di vento fortissima di quasi 80 km all'ora sradicò il tendone qui nella tensostruttura, lo squarciò, lo fece diventare un cumulo di brandelli. Ora, finalmente, dopo quasi 5 mesi, il Lido ritorna ad avere la sua struttura e si riappropria di quella che è la sua fisionomia che tutti quanti conosciamo con una tensostruttura più moderna, più resistente e soprattutto anche nuova. Il Lido finalmente si riappropria di una struttura che era un po' come dire un neo che mancava e quindi avete pensato bene di ripristinare le cose come stavano. Sì, abbiamo dovuto aspettare la ripartizione dei fondi, il bilancio per cui siamo intervenuti solo adesso, con una tensostruttura nuova, più resistente rispetto a quella precedente, perché la tensostruttura precedente era di tipo 2 e questa è di tipo 3 e ha una resistenza doppia rispetto alla precedente alla trazione, quindi sicuramente migliorativa dal punto di vista della tenuta. Speriamo che possa durare molto più a lungo ed era una richiesta che era venuta anche da chi frequenta questi bagni perché effettivamente è una delle poche zone d'ombra che c'è al Lido. La ditta che ha vinto l'appalto è una ditta di Roma, Davide Bascalis, ha vinto l'appalto per 30 mila euro, compresa IVA e quindi oggi dovrebbero finire in giornata i lavori di installazione. Il materiale è ovviamente un materiale adatto, in PVC ignifugo a doppia trama e quindi resistente ovviamente alle tensioni meglio di come lo era precedentemente e sicuramente credo che abbiamo fatto un buon servizio anche di riqualificazione di quest'area dopo i lavori che abbiamo già concluso nel mese di maggio e di giugno della riqualificazione della cavea che aveva le travi che si erano rovinate col tempo e che sono state sostituite. Abbiamo poi a Lido anche installato dei nuovi giochi vicino al Lido 1 che sono giochi pubblici e quindi pensiamo di aver fatto un buon servizio alla cittadinanza.